Il 5HTP è un integratore utile? Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questa 47esima puntata di Pillole Spartane. In questo video vorrei dirvi perché, a mio avviso, l'integratore 5HTP non è utile. Allora, innanzitutto, dobbiamo dire a cosa serve questo integratore. Solitamente viene assunto quando c'è, diciamo, il sospetto di avere bassi livelli di serotonina. E quindi, come si fa a capire se ci sono bassi livelli di serotonina? Generalmente attraverso i sintomi, quindi desiderio di dolci, depressione, difficoltà a dormire, irritabilità, ansia. Questi sono tutti sintomi che si hanno quando uno ha la serotonina molto basso. Viene suggerito questo integratore perché il 5HTP, vi prego di non farmi nominare il nome chimico perché in questo momento non me lo ricordo, è, diciamo così, la sostanza che viene prodotta nei vari processi chimici che trasformano il triptofano in serotonina. Quindi l'aminosido triptofano, prima di venire trasformato in serotonina, viene appunto trasformato in questa molecola e poi questa a sua volta viene trasformata in serotonina. Allora, innanzitutto, se i livelli di serotonina sono bassi, la prima causa da ricercare è l'alimentazione. Bisogna vedere se c'è un'adeguata assunzione proteica perché senza proteine non c'è triptofano e quindi non c'è la possibilità di produrre serotonina. Poi bisogna vedere se mancano integratori chiave come possono essere la vitamina D che è fondamentale per produrre la serotonina e gli omega 3. Quindi è inutile che io prendo un integratore di una sostanza che non verrà mai utilizzata dal nostro corpo per produrre serotonina se mancano appunto le sostanze chiave che ne stimolano la produzione. Quindi vitamina D e omega 3 sono fondamentali. E assieme all'alimentazione, poi bisogna vedere anche se questi cali di serotonina è adatto anche ad esempio a bassi livelli di testosterone e alti livelli di cortisolo che vanno appunto ad alterare anche i neurotrasmettitori del nostro cervello. Quindi a mio avviso questo è un integratore inutile e se si hanno livelli bassi di serotonina è bene andare ad indagare sulle cose che abbiamo appena detto, principalmente. E in certi casi anche una riduzione troppo drastica dei carboidrati oppure un sonno di cattiva qualità, chi fa tardi la sera e non dorme a sufficienza, sono altre cause, queste che ho appena citato, che possono essere analizzate per capire se possono essere i motivi dei bassi livelli di serotonina. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!